Le forze di sicurezza, le rispondo subito, le forze di sicurezza, le forze di polizia saranno legittimati a fermare i cittadini a chiedere spiegazione del perché dello spostamento e quindi dovranno i cittadini motivare sulla base delle indicazioni che abbiamo detto, le giustificazioni sono, lo ripeto, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute.